Nell'ambito della mobilitazione unitaria su alternanza scuola-lavoro, gli studenti e le studentesse dell'Istituto Tecnico-Industriale Marie Curie di Napoli hanno incontrato stamane il segretario generale della CGL Maurizio Landini in un'assemblea dal tema Scuola-Lavoro, la dignità della vita, che si è svolta all'interno dell'aula magna dell'istituto. Ai nostri microfoni il segretario ha così commentato la difficile situazione degli studenti che sono costretti anche a lavorare all'esterno delle scuole. È il momento di ascoltarli gli studenti, non di manganellarli o di caricarli. È il momento di capire le loro ragioni e soprattutto di rispondere anche alle loro richieste. In questo senso oggi io sono qui non solo per dire ma appunto anche per ascoltare e per capire. Dall'altra parte noi abbiamo chiesto un incontro anche al Ministro e al Governo perché pensiamo che ci siano una serie di cose che vadano migliorate, vadano cambiate. Del resto quello che è avvenuto, compreso le morti di alcuni studenti, rendono evidente che nel rapporto generale tra formazione e rapporto tra mondo del lavoro e scuola ci sono delle cose che vanno anche migliorate e che vanno cambiate. E questo è il senso anche di questa nostra iniziativa e di questo nostro confronto. La formazione non può essere addestramento, queste esperienze non possono trasformarsi in forme di sfruttamento del lavoro, di sostituzione di forme di lavoro e proprio perché per fortuna esistono anche esperienze positive, non ci sono solo esperienze negative, è molto importante che ci sia una socializzazione ma che ci sia anche un intervento e un controllo che qualifichi questa attività anche perché oggi la conoscenza è ciò che fa la differenza e quindi il tema è fare in modo che anche l'attività di alternanza scuola-lavoro rientri dentro a un'attività formativa, un'attività di studio e sia coerente con la funzione che la scuola deve avere che di costruire anche delle persone e dei cittadini che siano all'altezza dei problemi che dobbiamo affrontare. Un tema scottante specialmente dopo le morti di alcuni alunni nelle scorse settimane, il segretario generale CGL Napoli e Campania Nicola Ricci. Non si possono sostituire le ore di formazione con le deficienze delle aziende, il tema della sicurezza con quelle due morti degli studenti pone un tema centrale, bisogna che la scuola, i tutor, le istituzioni e le imprese anche in questo settore che deve dare uno sbocco lavorativo agli studenti venga fatto in sicurezza e in una legislazione anche qui deficitare ma chiara.